ciao ragazzi e ciao ragazze eccoci qua come vedete sono ritornata con un altro video come sempre voi avete visto sempre dal titolo sono tornata con un altro video haul in questo video ora vi faccio vedere tutti gli acquisti che ho fatto oggi oggi per esattezza è giovedì 8 febbraio sono stata oggi da da luna circa fino alle cinque alle quattro e mezza circa sono stata al mio centro commerciale preferito della campagna che si chiama proprio campagna che si trova a casetta che chi mi si è guardato lo sa in genere io e mauro ci andiamo sempre adesso non ci andavamo da penso settimana scorsa ci siamo andati anche quest'anno questa volta perché a parte dovevo fare un cambio perché ho preso una tuta mio nipote settimana scorsa da chiave ma ci va piccola quindi dovevo andare a fare questo cambio vabbè poi facendo il cambio esce anche dello shopping per me e sono contenta perché poi se mi avete visto i miei vlog precedenti in questi giorni non ho fatto niente nel senso da domenica che non uscivo di casa perché è stato il giorno in cui sono andata a lavorare la sera sono quando non battessimo me di martedì mercredì sono a casa chiusa in casa perché non sono stata bene e quindi sono contenta che sto uscita oggi ho sfagato poi ho fatto un po di shopping mettetevi comodi perché le cose non sono tantissime però ce ne sono ho fatto shopping da tiger sephora bottiglia verde e mix cominciamo da tiger che no no cominciamo da bottiglia verde perché bottiglia verde è stato il primo negozio in che siamo stati sono entrata perché mauro voleva regalare un qualcosina alla madre è stato il suo compleanno sabato domenica 4 gli avevamo fatto due reggis in Italia Mamai però su sua richiesta però giustamente ha detto a lui vicino alla mamma vabbè quello era un regalo un po intimo ti faccio qualche altra cosa e quindi però non voglia spendere tantissimo perché voi comunque per due reggis in Italia mai avevo speso 80 euro quindi comunque già aveva speso tanto però comunque voleva fare qualche altra cosa e guarda portega verde a volte c'è degli sconti le cose sono buone entriamo e vabbè abbiamo fatto un set della linea effetto lifting tipo 17 euro in offerto vabbè tanto lei non vede questo video quindi non credo mi veda quindi le posso dirlo poi lui voleva un profumino perché il mio fidanzato il profumino se li mangia cioè un profumo che dura pochissimo però come sempre non voleva spendere tanti soldi visto che se li mangia e visto che comunque gli regalo io quindi voleva spendere poco e da bottega verde c'era l'offerta su tutti i profumi al 50 per cento e quindi si è comprato un profumo al 50 per cento un euro to light pagato tipo 14 euro e comprando un profumo appunto da al 50 per cento appunto da bottega verde con un euro 80 in più avevi due federe due federe e io ne ho approfittato le federe sono federe letto per due sono racchiuse in questa in questa busta anche la fantasia è bellissima poi mi servivano sinceramente due federe perché ultimamente le andrei a prendere la mia madre perché non ce l'avevo di scorta quindi facevano comodo e vi faccio vedere appunto le federe che mi hanno dato che sono un euro 80 cioè 90 centesimi l'una va benissimo e poi sono 100 per cento cotone e sono anche carinissimi ancora devo aprirle perché poi sono tornata da poco allora uno è così oh che carina oh che carina guardate è un mezzo cuore con scritto you aspettate che mi inquadro così leggo you più me uguale love cioè carinissima questa dovrebbe essere appunto la parte destra e poi c'è la parte sinistra perché poi ho visto mezzo cuore va un'altra frase aspettate che credo non lo so sì esatto i love i love you non lo so comunque love you più me comunque una cosa del genere sono anche molto belle grandi mi piacciono io quando sono belle grandi così lo posso ben infagottare il cuscino comunque appunto con solo un euro e tante in più di differenza due federe troppo carine e soprattutto 100 per cento cotone quindi vabbè questo è stato diciamo l'acquisto che ho fatto grazie al fatto che lui ha comprato il profumo poi c'erano delle offertine e quindi ho preso delle cose allora c'era l'offerta questo crema corpo datazione intensa amorosa carina e burro di karité per pelli molto secca della linea crema fiori era offerta 125 ml l'ho pagata a 5 euro quindi buonissimo io di creme corpo me le mangio quindi ho sempre detto anche non mi sbaglio in qualche video quando trovo l'offerta me le compra quindi l'ho provata comprata solo 5 euro poi ho preso sempre l'offerta ho preso questo prodotto della linea sensitive skin questo è un fluido viso antirossori solleva e protezione con max noglia e ceramidi vegetali è un 50 ml con 12 mesi di scadenza eccolo ho pagato 7 euro in offerta poi andando alla cassa lei sta facendo lo scontrino è uscito dal terminale che avevo diritto a questo prodotto invece di 14 euro l'ho pagato solamente 4 euro di un prodotto che uso quindi mi ha fatto troppo piacere ho preso della linea al cocco questo detergente scrub corpo lo scrub lo uso due tre volte a settimana quindi va bene poi come sempre l'ho detto anche nei prodotti definiti che a parte quello di lascio ocean salt che adoro diciamo cerco sempre di provarli nuovi quindi sono contenta perché sinceramente di bottega verde a parte quella alla menta che in estate ho preso tantissimo infatti poi lo andrò a ricomprare non avevo mai provato nessuno quindi sono stata contenta che l'ho preso appunto questo è un 150 ml di prodotto 12 mesi di scadenza vabbè io lo finisco in due mesi ma manco pagato invece di 14 euro 4 euro poi vabbè mi ha dato un po' di campioncini e delle offerte i campioncini non faccio dire perché li do a mia mamma perché a luglio deve partire deve andare in grecia quindi deve prendere l'aelo quindi gli do a lei gli sto dando a lei i campioncini perché gli servono più di me ok quindi a posto poi dopo bottiglia verde vabbè io e ma ora siamo stati a pranzo e a fianco a dove siamo andati a pranzare che si chiama cento montaditos c'era tiger e io non ho in realtà che ci dobbiamo entrare vabbè ma ora ho comprato tre cretinate perché vabbè lui compra sempre le cretinate io non ho comprato le cretinate ho comprato delle cose che mi servivano è uno spizio allora lo spizio numero uno è questo questo è un poggia piedi cioè si mettono quando sul divano tipo oppure sulla sedia c'è i piedi freddi ci metti i piedi dentro è troppo troppo carino c'era sia con rosso che con rosa vabbè ma io avendo la casa rossa il divano rosso naturalmente l'ho preso rosso poi è un cure cioè il cure per me deve essere rosso è troppo troppo carino l'ho pagato 8 euro poi 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 ho preso una di queste scatole io mi sto riempiendo la casa di queste scatole perché servono ragazze servono tantissimo perché la voglio mettere nel bagno a posto di quell'altro che compra i marrone perché non piace più avendo fatto il mobiletto shabby chic col bianco che vi ho fatto vedere nel video vlog non precedente a quello precedente a questo quell'altro ancora che alla fine l'ho girato ieri quel vlog appunto vi ho fatto vedere quel mobiletto bianco quel coso marrone che c'era sopra non piaceva più anche se comunque i cassetti sono rimasti beige però non piaceva più avendo comunque tutto col celeste c'ho il tappeto celeste il cessino sul bagno che vi ho fatto vedere sempre nel vlog celeste quando ho visto questa da da appunto tiger c'era sia così con rose e col verde l'ho presa di plastica di quelle belle dure e l'ho pagata solamente 5 euro c'era anche più piccola comunque volendo se volete andare a dare un'occhiata poi ho preso poi ho preso questi sono dei delle gommine che si mettono vicino all'auricolare per renderle più comode da quello che ho capito meno fastidiose costavano solo 1 euro la coppia da 4 e quindi ho voluto prenderle ho voluto provarle e quindi le ho prese c'erano in varie colorazioni però ho prese queste col blu e col rosa appunto pagate solamente 1 euro quindi veramente niente poi poi ho preso una spalma formaggio lo so però costava una sciocchezza l'ho presa a volte quando mi faccio tipo la filadelfia ho provato veramente un formaggio difficilmente spalmabile l'ho voluta provare l'ho presa con rosa perché poi me la prendo là ho tutto con rosa lì quindi l'ho presa con rosa però c'erano vari colori pagata una sciocchezza pagata 1 euro quindi si poteva fare e poi ho preso ah poi ho preso io sono un amante sto piena di spetti in casa perché sono vivo da sola però era troppo carino e troppo carino e anche leggero e facilmente trasportabile ho preso questo specchio di tiger appunto che è rivestito con il verde tiffany c'era anche col blu e col nero però il verde tiffany c'è di più che c'è proprio vedete come se fosse una cornice troppo carino pagato 1 euro o 2 euro non ricordo sinceramente non ricordo sinceramente lo scontrino purtroppo mi sa che c'è la mauro comunque se non ci baglio 2 euro quindi veramente niente per il prezzo che aveva l'ho preso l'ho girato perché vi sto accecando comunque è così troppo carino poi veramente leggero quindi l'ho preso la mia pazienza io amo gli specchi cioè non lo so amo gli specchi quindi comprato un altro specchio poi un'altra cosa aspettate questo è troppo un ospizio e me la metto veramente me la metto vicino alle chiavi di casa ho comprato questa questa calcolatrice appartemente chiavi pagata un euro tipo due euro un euro se non mi sbaglio cioè troppo carino mi piaceva troppo infatti penso me la metto vicino alle chiavi o più vicino al beauty non lo so troppo 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 carina mi piaceva troppo c'era anche queste varie colorazioni ma l'ho presa col viola appunto pagata un euro vabbè poi mi hanno dato il catalogo adesso c'è per il san valentino infatti c'erano delle tantissime cose avrei comprato tutto su san valentino ma non mi sembrava il caso e quindi non ho comprato niente comunque a posto andiamo avanti dopo dopo appunto non si chiama qua tiger perdonatemi sono stata da tatatata da nix io non ho nix vicino a casa c'è in campagna c'è al centro commerciale campagna appunto e a via roma quindi ogni volta che ci vado pure una cretinata io la devo spendere ma non ho speso poco ho speso anche un po' però ci sta una ragazza che io seguo su instagram lucia mua se non mi sbaglio si chiama che non so se le anche le segui me non so manco se mi seguo sia su instagram su youtube mi sta guardando se mi stai guardando fammelo sapere ha messo di recente un post di una tinta molto particolare come colore che a lei stava benissimo e lei è più o meno come me ha i capelli neri ha le ciglia nere e non è scurissima cioè normale non è ne bianca e ne è scurissima e mi stava veramente bene mi piaceva proprio tutto il trucco che aveva mi ha detto no me la devo comprare io ho tipo 30 tinte ragazze veramente l'altra volta me le sono contate sono tipo 30 ma no no manco una di quel colore troppo troppo bello e troppo troppo particolare e mi sono comprata la tinta e la matita abbinata che vi faccio vedere la tinta è questa e non sono neanche bene il colore è questo color la tinta si chiama oddio ho sbagliato a prenderla non lo so se ho sbagliato a prenderla mi sono sbagliato a prenderla no non lo so sapete no vabbè no ho preso questa tinta che si chiama lipley 21 delicate last passion delicate non so se si pronuncia così che è questo cioè non lo so che colore è non lo so ditemi voi è un grigio è un non lo so definire è un colore molto molto particolare non è scurissimo però veramente particolare mettimi a fuoco ti prego non so se riuscite a capire appunto aveva non so adesso se lei veramente aveva questa però appunto mi ispirava mi sono fatto uno sboccio sulla mano e non l'ho provata naturalmente sulle labbra e vabbè comunque non ho veramente una tinta di questo colore ho varie tinte sul marroncino scuro il marroncino medio però veramente questo colore mi risulta niente e quindi appunto l'ho presa questa non mi ricordo adesso se aspettate la mia madre no tutto a posto convinto che stessi a mia madre non so adesso se quella che ha usato lei è questa o simile però appunto facendo lo swatch ricordandomi appunto quella tinta la vedevo molto simile comunque se tu mi stai guardando hai capito che sto parlando di te fammi sapere se è questa e poi sono andata appunto a comprarmi poi la matita abbinata che appunto è sempre la sml 21 blue clean torn questa l'ho pagata 3,50 me lo ricordo ok e quindi appunto ho preso questa combo 8,90 3,50 poi mi serviva una matita per le labbra di un color nude da abbinare sia alla mia tinta d'astylose di Anastasia Beverly Hills sia a mer sia comunque rossetti e tinte su quei toni perché in realtà ce ne ho una ma è un po' più scura rispetto sia a mer che a d'astylose e quindi appunto l'ho cercata mi sono avevo poi oggi d'astylose l'ho messa l'ho provata diciamo tra quelle che più mi potevano incuriosire e quella che più ci sono mi dava è questa qua che ho pagato sempre 3,50 questa è la sml 25 whip and caviar non so se riuscite a capire eccolo qua non so se riuscite a vedere questa qua comunque appunto ho pagato tutto comunque circa 20 euro se non mi sbaglio la tinta è 8,90 e questo qua se non mi sbaglio è 3,50 euro infatti ho pagato sui 17,50 euro più o meno quindi appunto questo è stato i miei affisti di NYX adesso passiamo agli ultimi acquisti che ho fatto da Sephora e vi voglio anche raccontare la sventura che ho avuto che ho accennato anche nel video vlog che appunto sto girando anche oggi però la volevo raccontare sono stata da NYX da NYX fino al 14 febbraio c'è il 20% il 20% su tutto il 15% se non sbaglio solo sul make up no dipende comunque da quale scheda avete io ho la Sephora Gold io avendo la Sephora Gold ho diritto al 20% su tutto tranne i soliti Uda Kat Von D e gli altri vabbè comunque sono entrata perché volevo approfittarne perché io ne voglio sempre approfittare del 20% perché assolutamente ne voglio approfittare perché comunque spendo nei giorni normali quando non c'è il 20% figura di quando c'è il 20% e quindi ho pensato un po' a cosa mi potesse servire cosa mi sta finendo e ho pensato a un correttore mi sono applicata inizialmente vicino al Nars perché Nars è un altro marchio che non ho mai provato niente e voglio provare mi stavo applicando volevo lo stavo anche quasi per comprare scusami ho qua il computer che sto editando un video comunque lo stavo dicendo volevo comprare uno di quelli perché mi ispirava molto lo vedevo molto simile il tech e la texture di quello di Marc Jacobs che io adoro ce l'ho ancora però mi sta quasi per terminando che adoro adorato e costa più o meno lo stesso prezzo 30 euro cioè un botto però veramente ne vale la pena quello di Marc Jacobs è ottimo e comunque stavo dicendo e quindi stavo applicata si è avvicinata una delle signorine sefara che stai cercando che lo stai cercando c'è la scheda non c'è la scheda vabbè si è messa a vedere sul palmare vabbè sono sefara gold c'è il 20% perché cosa cercavi no guarda io c'è il 20 ogni volta che c'è il 20 non mi affettare stavo pensando a un correttore c'è quello di Marc Jacobs mi trovo bene però mi piace sempre comunque provare i prodotti nuovi non voglio fossilizzarmi e ho visto questo di Nars si si questo è molto 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 buono molto buono però ho detto guarda io preferisco preferisco quelli cremosi adesso non ci farei caso non ce l'ho perché ho una secchezza oculare infatti non lo sto mettendo e lei ha fatto vada per questo problema che hai ti consiglio il Boeing e infatti poi ho preso il Boeing che adesso vi posso vedere ho preso Boeing ho preso questo questo è il Benefit Boeing appunto idrati think concealer poi diciamo questa ragazza è stata gentilissima poi mi ha mandato dalla ragazza sempre che lavora da sefara però che si occupa permanentemente di Benefit e vabbè me l'ha testata prima un po' sulla mano prima un po' sul sul viso e ho detto guarda questo è buono questo è buonissimo per te appunto che hai questo problema non dovrebbe anzi non dovrebbe farti il problema dovrebbe idratarti e mi sono fatta a convincere e quindi l'ho preso non ve lo voglio aprire perché naturalmente sto finendo di terminare quello di di come si chiama di Mark Jacob però guardate che carino questi sono i nuovi è una matita tipo matita troppo troppo carini appunto questo è il prodotto appunto facendo qui la prova sul viso mi ha consigliato questo qua il numero 2 e questo qua il prezzo di la realtà con il 20 conviene tantissimo perché questo è un non so se c'è scritto l'ML è un 3,5 grammi di prodotto dall'apertura dura 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 oddio non c'è scritto no dovrebbe starci scritto credo suspense no non c'è scritto non c'è scritto dall'apertura quanto dura non lo so perché non c'è scritto comunque vabbè è un 3,5 grammi di prodotto costa a prezzo pieno 25 col 20 l'ho pagato 20 euro ed è buono comunque c'è benefit è benefit infatti non vi posso negare che sicuramente adesso quando comincerò a smartire sia quello di io ho la mini size di Too Faced Better Than Sex e smartirò anche l'altra mini size di Marc Jacobs e uno di Yves Rocher voglio comprarmi il loro nuovo mascara ho seguito tutti i video di Giulia Delellis di Kiss Makeup perché la curiosità è troppo troppo bello quel mascara l'ho visto oggi l'ho preso per mano a parte ha un pack favoloso leggerissimo e poi ha un pettino bellissimo quindi sicuramente il prossimo 20% penso che li smaltito così di mascara me lo andrò a comprare perché anche quello costa costa 28,50 euro quindi col 20 dovrebbe venire intorno ai 22 comunque appunto ho preso questo invece di 25 col 20 appunto 20 euro poi andando alla cassa sapete ci sono i beauty to go i mini size stavo per prendere non l'ho presa perché sinceramente due colorazioni non mi piacivano però se costavano di meno magari le prendevo stavo per prendere 4 mini tinte diuda cioè costavano 34 euro che vai vedendo comunque bullo perché comunque sono alla fine come se fossero due intere una costa 23 euro però ragazzi come succede sempre giri due video la fotocamera si scarica subito quindi adesso ho messo il telefono e ho fatto anche subito infatti va bene non potete immaginare come potete mettere questo telefono e appunto c'è il quadratore è un po' più basso però perdonatemi comunque stavo dicendo appunto poi da sephora quando fai la fila ci sono tutte le mini site dei vari prodotti e andando un po' a sprucciare appunto c'erano le 4 tinte diuda beauty mini però appunto venivano 34 euro conuda avevo il 10 cioè costavano 30 euro che alla fine vai vedendo se usavi tutti e 4 mi conveneva pure perché comunque una tinta intera diuda costava 25 euro tipo quindi come cioè alla fine la stessa quantità che compravi due tinte ti veniva a fare 50 euro però due colori erano troppo chiari secondo me non li avrei usati quindi sinceramente non mi è convenuto comprarle e quindi non le ho comprate però ho comprato un prodotto che volevo provare cioè questo lo fanno sia in mini sites che in full sites in full sites al momento non mi serviva quindi ho preso una mini sites che sicuramente se mi troverò bene poi molto più in là quando avrò una foto a un 20 me lo ricomperò in full sites e sto parlando di questo prodotto della make up forever che anche make up forever sinceramente è un macchio che sono molto molto incuriosita a provare non ho mai provato niente pensate cioè io spendo veramente l'ira di dir i soldi tantissimi soldi da sephora infatti tanto che nel 2018 sono diventata gold vabbè però premetto una cosa non spendo solo di make up ogni volta che c'è un compleanno ogni volta che c'è un anniversario una cosa ogni volta che io e Mario dobbiamo fare un regalo andiamo da sephora quindi fate conto tra regale i suoi genitori natale compleanno monomastico mio padre mia madre tutti quanti quindi è normale che comunque alla fine ho speso tutti quei soldi però naturalmente spendo anche in make up e veramente ho provato tantissimi prodotti da sephora e ma tra i vari marchi appunto che rivende sephora io non ho mai provato niente sia di nas e sia di make up forever anche di qualche altra marca che a me non mi viene in mente comunque di mark forever non ho mai provato niente e quindi ho detto devo provare un prodotto però che uso perché appunto comunque è un marchio che costa e andando un po' a spulciare comunque in questi giorni sono stata sinceramente un po' sul sito di sephora a spulciare ho messo anche un post su su facebook per consigliarmi cosa comprare comunque appunto volevo prendere un correttore verde perché il correttore verde io e il correttore che uso normalmente però lo uso normalmente tra i miei prodotti low cost prodotti high cost non ho mai provato niente come come appunto base verde e andando a spulciare appunto un po' di sul sito avevo visto questa qua della make up forever appunto la mini size 15 ml costa 15 euro e quindi andando un po' appunto sono passata davanti al stand e me la sono presa e alla fine invece di 15 euro mi è venuta tipo 12 11 quindi alla fine certo io ho quella di ho quella di di nix che costa il doppio di quantità costa lo stesso prezzo addirittura al kiko il doppio della quantità costa 10 euro però non mi piace cioè mi piace più quella della della nix però naturalmente c'è il livello superiore e quindi appunto mi la sono presa per provarla però vi ripeto qui là quando riavro il 20 visto che acquisto sempre col 20 magari non ho idee mi comprerò appunto la base full size che costa 30 ml o 35 ml nessuno ricorda cosa sui 37 euro quindi costa tantissimo però vabbè comunque mi capparello sappiamo è un marchio ottimo e quindi non avendo mai provato niente l'ho presa e invece di 15 euro appunto col 20 l'ho pagata 3 euro e 10 meno comunque come sempre ho spavato i prezzi esatti che l'ho pagati con lo sconto e niente quindi appunto questo poi mi ha dato questa volta sono andata male mi ha dato due campioncini giusto per darmeli mi ha dato sono tutte due femminili sì sono tutte anche tutte e due uguali mi ha dato l'euro del detelite della mio mio vabbè meglio di niente però un'altra volta sono stata più 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 accontentata e niente ragazzi quindi questo è tutto sì ho finito questo è stato tutto il mio shopping come sempre se questo video vi è piaciuto se le mie cose vi sono piaciute mettete like commentate condividete iscriviti al mio canale se tu che mi stai guardando ancora non sei iscritto al mio canale attivate la campanella per non perdere più nessun mio video e ancora cosa più importante lo sto ripetendo negli ultimi video qui sotto la box informazioni vi lascio sia la mia pagina facebook che la mia pagina instagram sulla mia pagina facebook semplicemente carico solo i video che metto anche su youtube a volte può capitare che metto qualche foto qualche outfit ma avendo instagram che io adoro i filtri ti fanno bellissimo uso più instagram quindi se vi fa piacere anche seguirmi in modalità stories cioè comunque tutti i giorni e tutti i giorni comunque carico tipo oggi ho caricato sia l'outfit che il make up che sta sparendo di oggi ieri sera stessa cosa ho pubblicato la foto di un mio make up che ho fatto comunque sono molto più attiva rispetto a youtube ce la posso fare comunque tutti i giorni rispetto a youtube anche se su youtube ultimamente sto girando tanti video però naturalmente non è come su instagram è diverso quindi assolutamente seguitemi anche là mi fa troppo troppo piacere se mi seguite anche lì e quindi niente basta ragazze io non parlo più vi mando un grosso bacio e ci vediamo alla prossima ciao olì